Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio della Destiny Challenge. Ragazzi questa serie sta andando veramente uno spettacolo sta andando da dio state lasciando un sacco di mi piace e quindi vi invito fin da subito a lasciarne uno se volete un episodio infrasettimanale della Destiny Challenge. Ma comunque nello scorso episodio sono successe un mucchio di cose abbiamo sconfitto Brock e abbiamo diritto a un altro Pokémon che però diciamo Brock ci ha dato un pochino di difficoltà ecco mettiamola così. Aveva un Articuno al fottuto livello 18 che era altissimo abbiamo perso contro di lui e purtroppo ci è toccato liberare Clefable lasciandoci solo con Sidra e con il Pokémon che andremo a prendere in questo momento. Quindi ripartiremo per il terzo episodio con due Pokémon e tre vite avremo da fare l'intero Monteluna e poi dovremo affrontare ragazzi misti. Io sinceramente ho paura quindi vi invito fin da subito a lasciare per l'appunto un bel mi piace se non siete ancora iscritti al canale. Iscrivetevi sono diventato dislessico è la decima volta che cerco di iniziare questa parte di video adesso non la rifaccio se mi sono impappinato. Detto ciò ragazzi vi avete chiesto il nome delle app ma io manterrò il mistero per voi perché le app non mi pagano e quindi non devo sponsorizzarle perché solo le cose che mi pagano posso sponsorizzare non le altre che mi interessano. Ma comunque andiamo a scegliere il nostro numero casuale da 1 a 151 se solo imparassi a utilizzare il mio telefono numero casuale perfetto attenzione 111 111 mi fa paura 111 purtroppo non penso di avervelo fatto vedere però è venuto fuori 111 ve lo giuro. Andiamo sul pokédex andiamo a scoprire ragazzi chi è questo fattitico numero 111 riadrezzo al microfono mentre 111 111 111 aiuto. Ok rayorn rayorn ragazzi è la prima evoluzione non è malaccio e quindi 3 2 1 ed eccolo qua ragazzi il nostro rayorn ve lo faccio vedere subito abbiamo volo come mn perfetto. Attacco 42 difesa 52 velocità 18 ragazzi speedy gonzalez speciali 24 sanguisuga mangia sogni volo e geloraggio mangia sogni è la cosa più inutile che io abbia mai visto dopo levitazione per un electros. E volevo dire un'altra stronzata però fa niente lasciamo perdere volevo dire dopo palloncino ma dettagli ragazzi come vedete 3 livelli sotto sidra. E oggi con rayorn al primo posto della squadra andremo a fare monte luna senza repellenti perché noi siamo bastardi. E vive iniziamo già di merda a livello come non si scappa ma tu ma tipo bora muori madonna iniziamo benissimo raga ok perfetto mn non so quale sia. Attenzione ho somerang vediamo se posso già levare mangia sogni che culo ovviamente raga le mosse come al solito sono casuali ci tengo sempre a ricordarlo perché poi la gente è creepy ma ti metti i mangia sogni da solo. Ma congelato come prego come cazzo ho fatto a congelare fermi scongelate scongelate oh 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 ciao scemo mi hai scongelato sei un mito muori ok perfetto rayorn ha già preso tante di quelle botte che la metà bastano veramente. Manco avesse partecipato alle risse dei peggio ghetti di milano ti prego affrontami tu ho bisogno di allenamento raga se no prendo tante di quelle botte. Probabilmente raga l'ha ottenuto dal pescatore ah tra l'altro io avrei potuto vabbè che poi in realtà no perché perché non posso tenere pokemon avrei potuto prendere il magica sarei stato curioso di vedere se fosse randomizzato o meno volo ok questo wiggleduff mi sta mettendo in difficoltà. Dicevo questo wiggleduff non lo so oh oggi non so parlare una roba a luce wiggleduff figa che cosa ho detto non si sa ok perfetto vi ricordo che non è una nazzlock normale quindi rayorn l'abbiamo curato perfetto execute ma tamamma proprio che non penso che esiste in nessun dialetto strano però vabbè. Allora questa qua sono abbastanza convinto non sia la strada giusta però se non sbaglio c'è uno strumento utile qua non vorrei di una stronzata ma dovrebbe essere una un ps su meglio ancora pensavo fosse una perla se non ricordavo male evidentemente ricordavo male ragazzi però raga il ps su è utilissimo da rivendere ok perfetto spiro va a casa raga storai your name pre a parte il fatto che sembra tutto meno che un run no raga è scarsissimo. E' la cosa più è la cosa più scarsa che abbiamo visto in vita mia pikachu ciao rocette è la cosa più scarsa no raga una pipa madonna john frog che cosa ti è successo madonna ti è venuto un tumore al pancreas venonat via fuga tip no raga veramente allucinante sta cosa. Cioè mamma mia è morto due volte ha combattuto mezza mamma mamma che tristezza la vita gastli madonna ho beccato proprio il pokemon più scarso che esista allora fermi qua c'era una caramella rara se non vado errando geloraggio ti prego fagli ti prego ti prego ah sapete cosa c'è ora che ci penso abbiamo un pokemon che non ha praticamente mosso speciale cioè che non ha praticamente attacco speciale e la sua mosso migliore è geloraggio. Cioè ci ho pensato non si sveglia non si no io cioè devo sclerare in sta serie devo porco due oh madonna mega assorbimento inizia a schiattare male per forbecco muori minchia non ho parole prime livello 26 per sidra perfetto non ho una sveglia no io veramente raga vera veramente ok questo qua dovrebbe essere la caramella rara oh sei svegliato madonna i le calende egite prima che si svegliasse pozione pozione grazie al ce no basta io non ce la faccio guarda che roba qualcuno mi spieghi perché non riesco a fuggire vorrei una motivazione logica cioè manco fosse gesù cristo con malo sguardo oh oddio sono tornati gli scleri potenti raga era tanto che non li facevo fune di fuga ok o no posso proseguire di qua vero si grazie tu non dovevi esserci però polivrat no guarda che è una roba allucinante sto cosa raga vi giuro preferisco non usarlo io questo rayon non lo uso io uso solo sidra uso solo sidra e prego di battere la palestra con solo sidra rayon lo utilizzerò come cavia perché raga è allucinante scarsissimo ve ne accorgete anche voi invece sidra apre i culi ok perfetto questa non era la strada giusta però anche qua c'è uno strumento raga diamola a prendere tanto noi raga abbiamo tempo quindi non c'è problema executor psicolar forse ho sbagliato qualcosa forse ho sbagliato qualcosa per for back ok perfetto etere uh questo è utile mn01 non so che cosa contenga anche perché erano mezza sparatemi allora dai forza mio avventuriero raga veramente cioè io non ho intenzione di tornare indietro a curare cosa perché è troppo pippa allucinante mister my mega sorbimento no figa devi schiattare ok perfetto victribal poi raga la paura sarà misti la paura sarà misti questa è una pietra lunare perfetto ci sarà molto utile spero in futuro la paura raga è misti veramente perché se brock era a livello 18 vuol dire che misti potrebbe tranquillamente essere al 30 ancora un attimo forse esagerate un pochino no figa schiatta grazie oh livello 28 mi piace sta cosa buongiorno anche a lei oh velocizziamo un po' sta cosa che ci abbiamo già perso troppo tempo al monte qui da ok mi sembra più che giusto perfetto allora affrontiamo anche sto tipo qua parasect ok perfetto se tra l'altro non riesco neanche a morire una volta qua dentro per il prossimo episodio potrei ottenere altri due pokemon quindi arriverai a tre pokemon perché ora io ho intenzione di non usarlo perché è allucinante raga l'utilizzerò per l'appunto come cavian lo metto in sidebar sì ma per modo di dire ok stario tra l'altro senza accorgermene siamo arrivati dal tipo qua orsi perfetto ho di pokemon noto con piacere che non sei messo benissimo stai fermo ok psicolaggio giù ok perfetto raga con solo sidra me la sono cavata in una maniera allucinante eh ti devi levare ti devi proprio levare ma tanto ok perfetto con un sidra al 28 e un riot morto al 22 possiamo proseguire qua c'era un nascosto tipo ok la megawall perfetto mi ricordavo bene raga ma creepy stories master della prima gen qua abbiamo mt04 vediamo in cosa me l'ha randomizzato guarda che sclero ah sdoppiatore perfetto sdoppiatore abbastanza buono ad esempio ok siamo arrivati siamo arrivati a fottute celestopoli o raga ho detto che devo affrontare i visti perché perché sì perché sono masochista prima però raga andiamo a prendere un po' di rimedi no cazzo ho visto i repellenti non posso resistere arricchiamo oscillante dei repellenti ok e poi tutto il resto lo spegniamo in po' ah già è vero che qua è tutto storto ok perfetto andiamo a vendere raga al ps su che figa gli voglio bene però non penso che possa tornarci clamorosamente utile e andiamo a comprarci altre pozioni perché altrimenti qua prendiamo tante di quelle botte che veramente in confronto non lo so ok perfetto questa penso che la c'è nessuno perché potrebbe essere black humor possiamo andare ad affrontare i visti finalmente ok gym che io ho sempre detto da piccolo però questi sono dettagli trascurabili oserei dire ok siamo in palestra mi sto facendo la cacca addosso quella è misti e io affronterò tutti gli allenatori con rayorn sperando che riesca a combinare qualcosa di decente cadabra ti prego rayorn rayorn raga cosa gli è successo una tramutazione di rayorn oh mio dio è impazzito raga è diventato una bestia satanica che è è ok no figa livello 24 dimmi che stai scherzando se questo è al 24 misti è al 30 per forza per forback vogliamo di mandarla giù ok 20 no e la e light 4 non mi risulta però va bene lo stesso ok stiamo per andare ad affrontare i misti allora se riesco a batterla e non è scontata come cosa potrei riuscire ad avere 4 pokemon per il prossimo episodio 3 e mezzo perché rayorn non lo conto ciao sei nuovo di queste parti gli allenatori professionisti devono avere una strategia no gli allenatori professionisti fanno tutto a cazzo tutto a caso ok perfetto pokemon di tipo acqua non avrei neanche mezzo pokemon di tipo acqua ma va bene lo stesso wayne si vai il plum guarda l'ha rubato da erica questo oddio sapete che forse i livelli sono più bassi del ball amiche se mi shoti con balla sei ridicolo ok vuole in alto mi chiese lo shot mi chiese lo shot ovviamente non l'ho shottato geloraggio è chiaramente rayorn è morto con un critical perfetto iniziamo bene psicoraggio tutto dipende dall'ultimo pokemon signori per for back cazzo ha retto fango e c'è la mamma un po' bigola ok questa ci è andata decisamente di culo non me l'aspettavo mt11 che contiene ritirata perfetto la stessa che 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 vorrei applicare alla mia persona ok perfetto raga per il prossimo episodio avremo 1 2 pokemon in più quindi arriveremo a 4 membri in squadra quindi a 5 vite padre figlio e spirito santo perché rayorn potrei contarlo come un handicap quindi allora vediamo un po' prima di concludere l'episodio che i pokemon si trovano qua e tipo proviamo a far finta di allenare rayorn anche se io non ho intenzione di utilizzarlo più di tanto perché raga è un pericolo pubblico sto pokemon ghastly ok perfetto pokemon abbastanza brutti c'è nel senso a meno a me fanno relativamente cagare dragonair perfetto e dragonair invece è figo dragonair due volte decisamente figo dai però non è possibile che non c'è un altro pokemon decente oh livello 24 per rayorn sono a posto con la mia coscienza possiamo proseguire ok perfetto ragazzi nel prossimo episodio prima però se non sbaglio qua c'è uno strumento nascosto io sono un oh le caramella rara perfetto io raga rayorn non le do in questo momento perché non ne ho assolutamente intenzione otterrò il pokemon due livelli come sapete più bassi del pokemon più forte quindi li otterrò al livello 26 poi magari utilizzerò le caramelle rare per i due pokemon random che andremo a prendere all'inizio dell'episodio nel prossimo affronteremo il ponte pepita e di conseguenza anche il rivale e nulla io spero che questo video vi sia piaciuto se così vi invito come al solito lasciate un bel mi piace un commento qui sotto e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti mi raccomando passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sull'attività del canale e non e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed dei video detto ciao ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video